Ciao ragazzi e benvenuti su GasTube Drums. Nel video di oggi voglio parlarvi di una cosa che non troverete molto spesso, non troverete su YouTube, o forse sì in realtà, non lo so, perché i batteristi parlano sempre di accordatura, di scelta di pelli, e questo è super importante per i batteristi, si spaccano il cervello a trovare l'accordatura giusta e le pelli giuste, ma nessuno parla mai di pelli risonanti. E le pelli risonanti sono fondamentali, quindi oggi ho deciso di parlarvi di questo e di spiegarvi all'interno del video, dovrete andarlo a scovare questa cosa che vi sto per dire all'interno di questo video, e cioè vi voglio spiegare il trucco che usa Benny Greb per avere dei tom e dei timpani molto fermi, belli presenti, belli pieni di basse, eccetera, 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 eccetera. Non vi parlerò solo di questo, questo lo troverete all'interno del video, quindi mi raccomando guardate tutto il video, così riuscirete a trovare questo trucchetto, ma vi voglio parlare di tutte le risonanti, partendo da rullante e andando a prendere anche tom e timpani. Quindi ho chiesto a strumentimusicali.net di mandarmi un po' di pelli risonanti, che poi in realtà, come vi spiegherò, non sono pelli risonanti, ma sono pelli sempre battenti. Ma usate come risonanti perché, ragazzi, allora, cominciamo questo discorso. Dato che molto spesso mi chiedete, sì, ma non so come fare, ho messo questa pelle doppia risonante su che... No, allora, esistono le pelli risonanti per quanto riguarda la batteria, ma io non vi consiglio di usare quelle pelli lì, o comunque la maggior parte, provatele volendo, io non l'ho mai provata, provate a vedere cosa succede, ma la maggior parte dei batteristi usa delle pelli monostrato sui tom e sul timpano come risonanti. Quindi ho chiesto a strumentimusicali.net di mandarmi 14, 10... No, ah no, queste sono... no, queste dopo, rimettile dentro. 10, 12, 16, remo ambassador clear, quindi le pelli normali, quelle monostrato clear, e remo ambassador sabbiate perché non tutti lo sanno, ma possiamo mettere anche le sabbiate come risonanti, quindi voglio farvi vedere la differenza tra mettere risonanti sabbiate e risonanti clear. Questa è la seconda cosa che andremo a vedere, tom e timpani, perché la prima sarà rullanti. Per quanto riguarda i rullanti cambia tutto completamente, perché per i rullanti invece ci sono delle pelli specifiche e bisogna assolutamente usare queste pelli. Non andate a mettere un ambassador normale sotto il rullante perché non suonerà. O allievi che hanno fatto questa cosa, raga, non suonerà il vostro rullante se gli mettete una pelle normale. Avete bisogno di pelli come queste. Questa è la Evans Glass 500, non riuscirete mai a leggere questa cosa che c'è scritta perché è scritta piccolissima, è impossibile. Mentre questa che c'è qui dentro è la Easy 300, quindi SnareSide 300. Queste sono pelli apposite, sentite che fanno un rumore strano, perché sono pelli super 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 sottili. Quando si toccano in questo modo sembra quasi che si debbano rompere. Sono fatte apposta perché devono vibrare tantissimo, perché devono prendere tutte le mini cose, le mini vibrazioni appunto della cordiera. Questa è la SnareSide 300, mentre questa qua è la Glass 500 che è un filino più spessa. Quindi voglio andare a fare anche questo confronto qua tra 300 e 500 per capire veramente cosa cambia tra una pelle un filo più spessa e una pelle un filo più fine. Mi raccomando, utilizzate queste pelli per il rullante. Non fate la cavolata di mettere una pelle Clear Ambassador sotto il vostro rullante, perché sennò non va. Capito? Quindi faccio partire la sigla. Intanto non ve l'ho detto, ma ho ripellato tutta la batteria per farvi sentire bene tutte le differenze con delle pelli battenti che suonino bene, che siano nuove. Cercherò di mantenere sempre la stessa tensione delle pelli grazie al DT Drum Tuner, che non so dove si vada a prenderlo, che è quest'affarino qua, ne ho già parlato in un video, vi lascio il link qui sotto in descrizione, così con questo ho sempre la stessa tensione sulle pelli battenti e anche sulle pelli risonanti che andrò a montare. Mando la sigla e poi andiamo dall'altra parte, così cominciamo a parlare di queste pelli qua di rullante. Eccoci qua, partiamo dal rullante che vi ho detto, per portarmi un pochettino avanti ho già montato la prima pelle che voglio provare, cioè la SnareSide 300, quella un pochettino più sottile, questa raga è la pelle più normale, tra virgolette. Quindi vado a montare il mio rullante, vado a mettergli il microfono sopra, avremo 4 microfoni per sentire il rullante, perché c'è il microfono sopra, c'è il microfono sotto e ci sono i 2 microfoni della stanza, quindi sentirete anche il riverbero del rullante per avere una visione più completa. Non è il riverbero che ho messo in post, ma è tutto, tutto, tutto dai microfoni arriva, per farvi sentire il suono reale del rullante, il suono reale delle pelli. Sentiamo come suona. Sta pelle qua, raga, è fantastica, perché è super, super sensibile, cioè qualsiasi cosa... La piglia ha una dinamica pazzesca, perché riusciamo veramente ad andare a suonare pianissimo, e abbiamo sempre il suono della cordiera, il suono di rullante uguale, cioè è sempre lui. Quindi questo è sicuramente un punto di forza della SnareSide 300, ovviamente possiamo anche andare a far respirare un po' di più il rullante. Bellissima, questa qua è veramente una figata, ma come vi ho detto è la pelle un po' più usata. Adesso voglio andare a metterla a confronto invece con questa pelle qua, la Glass 500, un po' più spessa come vi ho detto, ovviamente non spessa tanto quanto un ambassador, mi raccomando, non mettete mai l'ambassador come risonante, ve lo dirò 100 volte in questo video. Andiamo a provarla, facciamo così, vi faccio sentire questa pelle risonante solo con il microfono sotto, quindi prendendo il microfono della cordiera, poi vi faccio sentire la differenza con la Glass 500 sempre solo col microfono sotto. Come potete sentire, questa pelle è completamente diversa, è pazzesco quanto cambia se cambio la pelle sotto del rullante. Adesso ovviamente sentivate solo il microfono sotto, vi faccio sentire tutto, microfono sopra e microfono sotto. Come potete sentire, è cambiato tutto, cioè cambiando la pelle sotto è cambiato tutto il rullante, è molto più bassoso, è un po' più cupo, soprattutto sulle Ghost ma in realtà anche sull'attacco. avendo una pelle più spessa, il suono è proprio più ciccioso, diciamo. Quindi adesso in realtà è abbastanza attirata la cordiera. Secondo me la cosa perfetta per questo tipo di pelle è mollare un po' di più la cordiera, lasciarla respirare un po' di più e poi pensate a fare un groove, non ve lo faccio sulla batteria, ve lo faccio solo sull'attacco per farvi capire meglio il suono. Sentite che le Ghost sono grosse, sono presenti, quindi ovviamente è una pelle meno versatile rispetto a quella di prima. Quella di prima si può usare pop, rock, funk, in qualche modo la si accorda sempre nel modo giusto, diciamo. Ma questa qua è un po' meno versatile, però per alcuni suoni in cui dobbiamo avere un rullante più grosso, le Ghost più presenti, con più volume, eccetera, questa è una pelle perfetta. Anche comunque come sensibilità... non ne ha tanta come quella di prima, ma sicuramente è più che buona. Adesso le due pelli per rullante e risonanti le abbiamo viste, torniamo di là e andiamo a vedere tutta la questione Tom e Timpano. Allora, ho, come vi ho detto all'inizio del video, le pelli ambassador, diremo ovviamente, sia clear sia sabbiate. Quindi adesso prendo le mie pelli clear, le apro ovviamente, e vado a montarle tutte sotto a ogni mio tamburo. Quindi ho la 10, la 12 e la 14. Anche qua non sto a rompervi troppo le scatole sull'accordatura delle pelli, perché qui, se no, si apre un mondo enorme. Ne ho già parlato tanto di accordatura sia di pelli battenti sia di pelli risonanti. Ovviamente la cosa che vi ricordo è quella di tirare sempre un pochettino di più la pelle sotto rispetto alla pelle sopra, cioè la pelle risonante rispetto alla pelle battente. Non è una regola assoluta, ma comunque è importante che sia così per avere un suono classico di Tom e un suono bello, in pratica. Se non dovete fare esperimenti strani, fate così. Pronti? Vado a cambiare tutte le mie pelli, ovviamente tranne il rullante, e poi vi faccio sentire come suona, poi così cambiamo e capiamo bene le differenze. Dove ho messo la chiavetta? Dove l'ho messa? Eccoci qua, pelli montate. Ovviamente non vedete la differenza perché ho montato quelle sotto. ovviamente, però devo dire che a una prima suonata hanno acquistato proprio una definizione di nota diversa. Anche se l'attacco del colpo lo dà la pelle sopra, la pelle sotto, in questo caso, ha chiuso prima il suono. Avevo già l'ambassado sotto, quindi ho cambiato la stessa pelle, ma il suono è molto più asciutto e controllato. Soprattutto, devo dire, quella del tom uno. Il tom uno è proprio stoppatissimo. E non ci sono né cotone dentro, né gaffa, cose strane, stoppature. È proprio lui che suona così. È rimasto un pochettino di armonico. Perché ovviamente sul mio accordatore gli avevo detto un pochettino di risonanza lasciamela, ma non troppo. Quindi volendo l'avrei potuto aumentare ancora un pochettino sul tom uno, ma comunque ci sta. Adesso, avete sentito il suono di queste risonanti clear? Adesso vi faccio sentire il suono della stessa batteria con le stesse pelli battenti, ma con le risonanti sabbiate. Sentite che c'è differenza. Ovviamente vi consiglio di mettervi le cuffie per sentire la differenza, perché da cellulare non è che si senta proprio chissà cosa. Ma questo è il modo di utilizzare le pelli di Benny Grebb, che vi ho detto all'inizio, che avete letto sul titolo e tutto. Benny Grebb utilizza molto spesso pelli sabbiate sia sopra sia sotto. Poi sopra utilizza delle emperor, come sto usando io, o delle ambassador, dipende un po'. Sotto utilizza sempre comunque delle ambassador sabbiate. Proprio praticamente come li ho io adesso. Io sui tom sto utilizzando delle vintage emperor, però comunque è quella roba lì. Questo ti permette di avere un suono molto più controllato. Sentite che è un pochettino più pieno di basse. Buon attacco! Migliori basse rispetto alle clear sotto e viene un suono che è veramente una figata. Infatti Benny Grebb ha proprio il suono Puu Puu proprio fighissimo sul timpano. Poi io proprio come lui utilizzo anche del cotone all'interno del timpano che quindi suona proprio grosso e fermo. E questa è veramente una figata, una figata, una figata pazzesca. Quindi, segreto di Benny Grebb svelato. Ragazzi, con questo il video può finire qua. Spero vi sia piaciuto, spero il trucchetto di Benny Grebb della doppia pelle sabbiata sopra e sotto vi sia piaciuto, spero in realtà vi sia piaciuto anche tutto il resto. Spero di aver fatto un po' di chiarezza su questo argomento perché è sempre un po' nebuloso. Cioè la gente non sa mai bene che pelle risonante mettere, come fare, come gestire, tutte queste cose. Quindi, spero vi sia piaciuto questo video, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Qui sotto in descrizione trovate anche l'articolo che vi riporta il sito CastTube. Trovate tutti i link di cui avete bisogno, quindi pelli risonanti, pelli battenti, cose eccetera. Io voglio ringraziare tantissimo, come al solito, lo ringrazio sempre, ma è doverosa questa cosa strumentimusicali.net perché veramente io non ho la possibilità di fare questi confronti da solo e strumentimusicali.net mi dà una mano enorme per portarvi sul canale queste comparazioni. Quindi grazie mille strumentimusicali.net. Io con questo la finisco veramente qua. Vi chiedo di lasciarmi un like se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi se ancora non siete iscritti, che ne so, non è tanto che non vi dicevo di iscrivervi. Quindi iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!